Gerardo Deioanni, Benavento News 24. Salve mister, ben trovato. Due domande. Una, sempre relativamente un po' alla formazione, all'11 che vedremo lunedì a Genova. Lei ci sta spiegando un po' le motivazioni che saranno alla base delle scelte, ma le volevo chiedere quanto poi quell'11 che vedremo a Genova si distaccherà, comunque sarà diverso da quello che poi vedremo sei giorni dopo, il 14 in casa col Cosenza, quindi alla prima di campionato. E un'altra considerazione da lei, come ha visto Farias che potrebbe rivelarsi un vero top player per la categoria, perché poi abbiamo parlato di chi è andato via, di chi potrebbe andare via, a volte magari dimentichiamo chi è ancora nella rosa del Benevento e chi giocherà per il Benevento. Appunto tra questi Farias che ha alle spalle tanti e tanti campionati di Serie A. Sì, prima di rispondere a questo dico che, vabbè, rispondo alla prima domanda. Adesso penso alla partita di Coppa Italia, quindi schiererò la formazione che secondo me in questo momento mi dà più garanzie, non pensando alla partita di Coppa Italia, perché io ci tengo a fare bene, ci tengo a passare il turno e quindi metterò la formazione migliore, che in questo momento penso sia la migliore. Poi vedremo durante la prima partita, durante la settimana, cosa succederà e farò delle valutazioni. Per quanto riguarda Farias, è un giocatore che non lo scopri sicuramente io, non lo scopriamo adesso, sappiamo che qualità ha, l'anno scorso è arrivato in condizioni fisiche non ottimali, ha sofferto tanto, mi è successo anche a me da calciatore, quando arrivi in una squadra a gennaio, dove è una squadra già collaudata, arrivi da 7-8 mesi di inattività, le difficoltà bene o male le trovi. Anche se l'anno scorso, con tutte le difficoltà, Farias è stato sempre quel giocatore che ha avuto sempre le occasioni migliori durante le partite. Non avendo la lucidità, non avendo la brillantezza soprattutto, non abbiamo visto il Farias che abbiamo sempre e che tutti noi conosciamo. Quest'anno si è presentato bene il ritiro, ha fatto un buonissimo ritiro, è un giocatore che se sta bene dal punto di vista fisico, ci può dare una grossa mano perché ha delle qualità superiori, in questa categoria non c'entra niente, perché ha delle qualità tecniche superiori. Noi dobbiamo essere bravi, cercare di metterlo nelle condizioni migliori, di poter dare il massimo, sapendo che in alcune circostanze, in alcuni momenti, qualcosa lo possiamo anche perdere da lui, perché non posso chiedere a Farias quello che chiedo a Improta, ma per le caratteristiche tecniche, fisiche, quello che chiedo magari a te io, non posso chiederlo a Farias. In alcune partite ci sarà da soffrire per poter mettere magari lui nelle condizioni di poterci dare il massimo, ma un discorso Farias, non vorrei, ritorno sempre a Barba e Ionita.